In questo luogo magnifico è conservata una parte considerevole di quella che è la conoscenza umana. L'information technology, con la possibilità di digitalizzare questi contenuti, consente di conservare e portare la conoscenza al futuro, ma anche di fruire di questa conoscenza in modi non pianificabili nel passato. Questo patrimonio oggi, solo per pochi, diventa un patrimonio accessibile a chiunque abbia una connessione di internet. Entity Data è qui per accompagnare la Biblioteca Apostolica Vaticana, quindi siamo stati scelti in questo progetto grazie a quelle che sono le nostre competenze, le nostre esperienze e grazie alla nostra attenzione continua nel tempo a tutto ciò che per noi rappresenta l'innovazione. Attenzione all'innovazione che per Entity Data è un faro che cerchiamo sempre di seguire, che passa da un investimento significativo in termini di risorse dedicate alla ricerca, allo sviluppo. Quello che noi cerchiamo di fare è di interpretare come la combinazione di fenomeni sociali e fenomeni tecnologici che vanno via via emergendo cambia il modo di interagire, per esempio, all'interno della società, tra i cittadini e le istituzioni, oppure tra i clienti e le aziende. Stiamo vivendo in un mondo caratterizzato da fortissimi cambiamenti. Le tecnologie evolvono in maniera molto frenetica. Mi riferisco al cloud, mi riferisco alla esplosione dell'internet delle cose, quindi il fatto che le cose dialogano, forniscono informazione, fenomeni come gli smart city, piuttosto che è la nuova knowledge society. Tutto questo che cosa ha portato? Ha portato a una discontinuità paragonabile a quella che c'è stata nella rivoluzione industriale, che oggi viene comunemente chiamata come rivoluzione digitale. Questa rivoluzione digitale impatta tutti i tipi di business, quindi clienti, istituzioni devono disporre di nuove competenze, competenze che non sono necessariamente di tipo solo tecnologico, ma sono multidisciplinari in ambito di strategia, di marketing, di come creare i contenuti e di come creare una nuova user experience per i clienti e i fornitori. L'innovazione è un fenomeno ormai necessario per poter prosperare nel futuro, sia come azienda che come società. L'innovazione è un fenomeno necessario per prosperare come azienda e come società. Benvenuti ad una nuova puntata di La C Economia. Oggi abbiamo voluto iniziare con questo servizio, con le dichiarazioni di Walter Ruffinoni. Ruffinoni, convinto sostenitore della trasformazione che il digitale sta portando nel mondo del business, è dal 2013 alla guida di Entity Data Italia, una realtà che affianca le aziende per rendere protagoniste dell'innovazione digitale. Entity è un colosso mondiale, ma perché ne parliamo oggi nella nostra rubrica? Oggi questo gruppo, con 240 mila dipendenti, di cui 2.500 solo in Italia, è un fatturato di 112 miliardi di dollari a tre centri di ricerca e sviluppo. A Tokyo in Giappone, a Pallo Alto in California e a Cosenza nella nostra Calabria. Cerchiamo di capire come nasce questo centro di eccellenza nella nostra regione, che dà lavoro soprattutto ai giovani. Lo faremo con Giorgio Scarpelli, vicepresidente Entity Data Italia. Benvenuto, dottor Scarpelli. Benvenuto. Allora, dottor Scarpelli, spieghiamo meglio di cosa si occupa Entity e raccontiamo un po' questa bella storia. Era il 2001 e cosa successe? Nel 2001 un piccolo gruppetto di allora ragazzi, io insieme ad altri due colleghi, decisero di puntare decisamente sulla Calabria. Perché? Convinti che la Calabria non fosse una regione handicappata, ma fosse una regione dove ci sono risorse, ci sono capacità e possibilità di competere ad un livello internazionale. Così abbiamo scommesso di portare la nostra professionalità nella nostra terra di origine e abbiamo iniziato un viaggio che per noi era un sogno e che abbiamo condiviso con tanti ragazzi e che oggi è confluito in questa realtà internazionale che è appunto un colosso presente nella classifica dei Fortune 500 intorno al cinquentesimo posto che appunto ha avuto anche il coraggio di credere in quello che avevamo da dire da calabresi, ci ha dato spazio, abbiamo giocato le nostre carte e devo dire siamo risultati vincenti. E perché proprio il territorio cosontino? Perché la scelta di questa zona della Calabria? Noi abbiamo iniziato a dialogare con una serie di imprenditori all'inizio milanesi, non cercando di trovare un consenso semplicemente sulla base di una serie di luoghi comuni che si sentono intorno alla Calabria, cioè che abbiamo bisogno, che ci dovevano supportare, che abbiamo bisogno di assistenza, eccetera, ma cercando di vendere un prodotto che trova proprio nella calabresità i suoi elementi vincenti. Per erogare servizi nel mondo delle tecnologie non è affatto necessario essere fisicamente presso i clienti o muoversi ed essere presenti esattamente nelle varie geografie. Noi possiamo erogare i servizi anche dalla Calabria e in questo caso, essendo radicati in Calabria, abbiamo a disposizione dei valori estremamente competitivi, anche rispetto alle altre regioni italiane, ma anche ad un livello internazionale. Questi valori sono la professionalità delle nostre risorse, sono il fatto che le nostre risorse amano lavorare in Calabria e quando ne hanno l'opportunità diventano estremamente entusiaste, ci mettono tanta passione, tanto impegno, tanta determinazione e per una serie di congiunture territoriali anche i costi per delle erogazioni di servizi in Calabria è competitivo rispetto al resto dell'Italia e in particolare rispetto al resto dell'Europa. Allora, la nostra proposta era una proposta vincente, nel senso che non avevamo elementi di svantaggio, ma semmai elementi di competitività da proporre. Abbiamo puntato su questo. In questo modo abbiamo anche valorizzato le nostre radici territoriali, perché uno degli elementi che motivavano la nostra scelta era proprio quello di volere contribuire a creare del valore sul nostro territorio. E il valore aggiunto quindi potrebbe essere e può essere la collaborazione con le università, che sono quelle che forgiano e creano gli imprenditori di domani. Infatti il vostro punto di forza è la presenza di tantissimi giovani. Esatto. Uno degli elementi vincenti, uno dei fattori di successo, è stata proprio la ricchezza che ci offrono le nostre università calabresi. Noi collaboriamo in particolare per ragioni di vicinanza geografica con l'Università della Calabria e l'Università della Calabria è sempre stata assolutamente pronta a seguire i nostri progetti e ci ha affiancato in qualunque tipo di iniziativa, sia in termini di formazione delle risorse, degli skill, noi collaboriamo continuamente con l'università, sia fornendo anche contributi di tipo formativo, quindi partecipiamo a workshop e cerchiamo di trasferire la nostra esperienza professionale alle nuove leve che si formano nell'università, sia in qualche modo adattando i programmi di studio a quelle che erano le nostre aspettative, in modo tale che le persone laureate all'Università della Calabria sono in qualche modo già pronte ad essere inserite nei nostri processi produttivi. Questa disponibilità è un elemento assolutamente distintivo ed unico, probabilmente non è possibile fare altrimenti o allo stesso modo in altre zone d'Italia, perché probabilmente nella nostra regione, in Calabria, a Cosenza in particolare, non c'è una grande presenza di grandi aziende e quindi l'università è particolarmente attenta alle nostre esigenze. E quali caratteristiche deve avere un giovane per poter lavorare in questo campo? Anzitutto noi ricerchiamo la disponibilità a condividere la stessa vision, la stessa prospettiva, per oserei dire gli stessi sogni, quindi ci aspettiamo dalle persone che decidono di lavorare in NTT Data, ovviamente una competenza e una professionalità allo stato dell'arte. E questo, grazie a Dio, il background formativo dell'università lo garantisce. Però a fianco a questo noi ci aspettiamo un impegno a confrontarsi ai massimi livelli e ad accettare tutte le sfide sul piano professionale, perché è proprio su questo che si è determinato un fattore di competitività aggiuntivo, sul fatto che le persone che lavorano da noi hanno un quibus in più in termini di commitment, in termini di passione, in termini di energia, perché hanno anche voglia, e questo è il nostro sogno che condividiamo, di un po' recuperare un gap rispetto al resto delle regioni italiane e al resto del mondo. Allora, questa molla, questa leva è l'ingrediente fondamentale per creare una capacità competitiva fuori dall'ordinario. Visto che siete un gruppo in espansione, diamo un po' di informazioni anche a chi è interessato a questo campo e sta cercando lavoro. C'è qualche posizione lavorativa aperta per quanto vi riguarda? Assolutamente sì, il nostro piano di crescita è molto ambizioso. NTT Data Italia, che è presente in otto città italiane, ha deciso di puntare decisamente proprio nella valorizzazione delle proprie sedi al sud. Al momento abbiamo due sedi importanti che sono a Napoli e a Cosenza. Cosenza in particolare è la terza sede italiana in termini numerici, dopo Milano e Roma, appunto, a Cosenza lavorano ormai più di 220 giovani professionisti. Il nostro piano di espansione prevede che dovremo raggiungere, fra le sedi di Cosenza e di Napoli, il numero di 500 risorse. Quindi c'è ancora spazio per crescere molto e abbiamo opportunità di crescere non solo perché c'è la volontà aziendale di aumentare in numero queste sedi, ma anche perché ci sono opportunità di mercato, in quanto la nostra professionalità, la nostra qualità, i nostri elementi distintivi sono sempre più ricercati dai clienti e questo è un po' l'elemento che ci consente di sperare in una crescita che continuerà anche nei prossimi anni. Quindi per essere pratici cosa fare per candidarsi? Noi abbiamo un sito web che può essere consultato, all'interno di questo sito web c'è una sezione che consente appunto di sottoporre le proprie candidature. Oppure venite a trovarci nella nostra sede, saremo ben lieti di ascoltare le vostre idee, le vostre proposte, le vostre candidature e se c'è spazio, se c'è comunione di intenti, oserei dire, saremo ben lieti di offrire uno spazio. È una possibilità. Una grande occasione quindi per chi ci sta ascoltando ed è interessato a trovare un'opportunità di lavoro in questo campo. L'Information Technology è il motore dell'innovazione, del business e della società. È essenziale identificare oggi i cambiamenti e le opportunità del futuro per poter adattarsi a un contesto in rapida mutazione. Le chiedo, dottore, e quindi è la tecnologia a far evolvere la società o viceversa la società a far evolvere le tecnologie? Direi che entrambe le affermazioni sono vere. Senza dubbio la tecnologia spesso introduce delle vere e proprie rivoluzioni che determinano anche dei trend sociali, ma spesso la tecnologia segue anche i trend sociali e cerca di trovare delle risposte a dei bisogni con delle soluzioni innovative. Quindi direi che entrambe le cose sono vere. Oggi mi sento di dire che il contributo che la tecnologia sta dando alle rivoluzioni anche sociali è veramente determinante. Basti pensare per esempio ai social network, basti pensare all'utilizzo diffuso e sempre più di massa dei dispositivi mobili, degli smartphone, dei tablet, basta pensare alla quantità di informazioni che abbiamo sempre e comunque con noi oppure al fatto che prima eravamo abituati ad andare a comprare nei negozi fisici, oggi molti degli acquisti li facciamo online. Ecco, queste rivoluzioni che spesso avvengono senza che neanche ce ne rendessimo conto, in effetti sono abilitate dalla tecnologia. Voi come Entity Data avete identificato i maggiori trend tecnologici del 2017 che sono quelli che ritroveremo per il futuro e su cui le aziende possono indirizzarsi. Quali sono? Andiamo un attimino a descriverli insieme. Certo, noi come gruppo, come Entity Data, realizziamo ogni anno un documento che si chiama Technology for Sight, vuol dire appunto visione della tecnologia, in cui proviamo appunto ad identificare quelli che sono i trend tecnologici più significativi. Chiaramente non è che ogni anno c'è un nuovo trend tecnologico, spesso questi trend si rinnovano di anno in anno, però oggi la tecnologia viaggia ad una velocità eccezionale, per cui alcuni trend che erano validi sei mesi fa, magari oggi sono anche cambiati oppure sono evoluti in una maniera, per certi versi, inaspettata. Allora, mi sento di dire che il primo e importante trend è quello relativo all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale significa ciò che i computer riescono a fare autonomamente come se fossero delle persone umane. L'intelligenza artificiale trova tantissimi campi di applicazione, ad esempio per imparare a dialogare con le persone utilizzando lo stesso nostro linguaggio. Quindi oggi abbiamo sempre di più esempi di macchine, di computer, che dialogano con noi con lo stesso nostro linguaggio, non attraverso dei comandi, ma attraverso la voce. Allora, questo modello, viene chiamato tecnicamente conversational computing, è qualcosa che sta invadendo i nostri spazi. Parliamo con la nostra casa, parliamo con la nostra automobile, parliamo con gli oggetti, che i nostri oggetti sono in grado di, sorprendentemente, di risponderci, con una capacità di relazionarsi con noi sempre più efficace, sempre più perfetta. E quindi vediamo comparire nei nostri spazi, nei nostri ambienti, tanti device, tanti oggetti nuovi, che sono dei robot. La nostra abitudine a vedere i film di fantascienza ci ha portato ad identificare con il robot qualcosa che è un umanoide, appunto, che ha delle sefattezze umane con cui possiamo dialogare. Queste cose stanno diventando reali. I robot sono sia quelli industriali, i cosiddetti, quindi i bracci meccanici che consentono di fare delle attività in maniera sempre più precisa e in tempi estremamente rapidi. A fianco ai robot industriali, che ormai sono presenti da diversi anni nelle catene di montaggio delle aziende, adesso ci sono anche i cosiddetti robot antropomorfi, che sono appunto degli umanoidi, che sempre di più saranno presenti nelle nostre case e ci aiuteranno a fare una serie di attività consuete, interagendo sia con le persone, quindi attraverso il linguaggio naturale, sia con gli ambienti e con gli spazi, attraverso la cosiddetta internet delle cose. Quindi potremmo dire al nostro robottino domestico per favore, fa piuttosto caldo, potresti abbassare la temperatura del condizionatore, oppure dirgli, ad esempio, di sorvegliare bene la nostra casa e farci vedere che cosa succede, o di andare ad aprire alla porta se qualcuno suona, oppure interfacciandosi anche con la nostra banca, potremmo dire, ad esempio, al nostro robot domestico, mi dici per favore se è stato accreditato il mio stipendio, lui potrebbe verificare sul nostro conto in banca e nell'ipotesi che il conto in banca sia sufficiente, potremmo chiedergli, ad esempio, di pagare una bolletta semplicemente mostrandogliela. Allora, questi robot consapevoli dell'ambiente sono qualcosa che diventano sempre più pervasivamente presente, grazie appunto all'intelligenza artificiale e al conversational computing. Ma anche la realtà aumentata, la cosiddetta, la realtà sintetica. Oggi siamo abituati ormai a indossare dei caschetti che ci proiettano in un mondo virtuale bellissimo. Allora, queste tecniche di realtà virtuale e di realtà immersiva saranno sempre più spinte, sempre più evolute e si aggiungeranno sempre nuove funzionalità che solleciteranno altri nostri sensi. Noi siamo abituati a vivere delle esperienze virtuali attraverso la vista e l'udito, ma nell'immediato futuro avremo anche la possibilità di vivere un'esperienza di realtà che noi chiamiamo sintetica anche attraverso il tatto, perché anche il tatto può essere stimolato in maniera artificiale. E allora avremo non solo la visione di un mondo che non c'è, un mondo virtuale, ma anche la sensazione di toccare un mondo virtuale che non c'è. E avremo per esempio la sensazione di toccare la seta quando non abbiamo alcun tessuto in mano, oppure di sentire la pesantezza di un oggetto che stiamo virtualmente tenendo nelle nostre mani e via discorrendo. Si apre veramente un mondo fantastico, inaspettato per certi versi, che sta anche andando più veloce della nostra stessa immaginazione. È proprio vero. Quindi dei trend, mi lasci dire, molto affascinanti che ci iniziano già a coinvolgere e coinvolgeranno sempre di più la nostra vita, che sono anche delle spie, dei segnali che le nuove aziende devono seguire per potersi sviluppare. Ma quali caratteristiche devono avere le aziende per esistere nel futuro? Sentiamo cosa sostiene il Presidente Ruffinoni. Quali caratteristiche dovrebbero avere le aziende per sopravvivere nel futuro? Direi essenzialmente essere il più possibile innovative, investire il più possibile nel futuro e puntare sulle nuove tecnologie. Io credo che la tecnologia o le tecnologie siano arrivate a un livello di maturazione mai visto prima. quindi la tecnologia è diventata un vero abilitatore di nuovi modelli di business, ha accorciato decisamente le logiche competitive e quindi uno dei suggerimenti è non vedere le tecnologie come un di cui o un vincolo, ma cavalcarle e approfittare delle tecnologie per fare quel salto necessario che permetterà la crescita dell'azienda stessa. Dottor Scappelli, Entity Data è anche impegno nel sociale. Voi siete anche coinvolti in un'azione volta ad evidenziare l'importanza della leadership al femminile, vero? Esatto. L'impegno sociale è un'altra delle connotazioni che abbiamo voluto dare alla nostra azienda perché essere presenti nella società significa anche in qualche modo contribuire in tutti i sensi all'evoluzione della società stessa. Allora, uno degli elementi che abbiamo pensato di focalizzare con maggiore determinazione è proprio il tema della leadership al femminile. Per tante ragioni nel nostro ambito, nel campo tecnologico non sono presenti molte figure femminili soprattutto nelle posizioni apicali di vertice e ci siamo un po' interrogati come mai questo fenomeno. Probabilmente ci sono sicuramente degli aspetti, degli elementi che le aziende ma anche l'organizzazione dello Stato potrebbe ulteriormente fare per favorire, per dare il giusto spazio alle donne. Ma il nostro punto di vista è che una leadership al femminile contribuisce in maniera determinante alla crescita dell'azienda. Quindi anche in questo caso non è una questione di difficoltà da recuperare ma di opportunità da cogliere. Bene, grazie per queste parole. Voi siete la prova che il Sud ha solo bisogno di un po' di coraggio in più per divenire protagonista. Abbiamo in collegamento uno dei vostri giovani direttamente dal centro di Cosenza uno dei ragazzi appunto che lavora per voi e con voi. Abbiamo al telefono Marco Iusi. Marco, ci sei? Ciao Marco. Ciao, buonasera. Ciao Marco. Allora, sei a lavoro, sei operativo? Sì, sono tra un meeting e l'altro mi sono collegato con voi. Allora Marco, dici, tu sei giovanissimo lo vediamo dall'immagine, quanti anni hai? Ho 34 anni. Allora Marco, raccontaci brevemente la tua esperienza questo tuffo nel mondo di NTT un calabrese a Cosenza che però è proiettato nel mondo. Sì, io lavoro in NTT data da circa 8 anni sono stato assunto una settimana dopo la mia laurea praticamente mi sono laureato qui all'Università della Calabria insieme ad alcuni colleghi non abbiamo avuto nemmeno il tempo di festeggiare la laurea e abbiamo ricevuto questa chiamata già questo, diciamo, è un elemento di novità sono un privilegiato che non ha conosciuto la disoccupazione nel nostro territorio, diciamo, è un qualcosa che suona quasi strano Marco, cosa ti occupi giornalmente? Qual è la tua mansione all'interno del gruppo NTT? Allora, in questo momento mi occupo di sicurezza informatica lavoro come solution architect sono un architetto quindi di sistemi informatici però ho avuto anche altre esperienze NTT data mi ha permesso di fare molte esperienze anche in giro per l'Italia e anche per il mondo sono stato per due anni in Inghilterra bene quindi, diciamo, un grosso bagaglio di esperienze che mi ha consentito di fare questa azienda che ha deciso di avere una sede qui a Cosenza e di realizzare quello che è il sogno di molti di noi ovvero lavorare in una grande azienda nella città che amiamo bene Marco, noi ti ringraziamo ti auguriamo di continuare a crescere con questo gruppo e di rimanere in Calabria per svolgere la tua professione grazie e in bocca al lupo, a presto grazie a voi allora, mi sembra bellissimo poter concludere questa puntata con questo messaggio molto positivo di Marco la ringrazio dottor Scarpelli di essere qui grazie a voi e prima di concludere vi ricordo di segnalarci gli argomenti i dubbi che avete e volete rivolgere alla nostra redazione ai nostri ospiti alla mail economia-lactv.it vi invitiamo anche a seguirci sul nostro sito lactv.it e tramite i nostri canali social Facebook, Twitter e Youtube alla prossima grazie a tutti